Da dove si parte per raccontare Steve Gerdà? Noi eravamo indecisi perché avremmo potuto partire da tante cose. Abbiamo pensato che fosse cosa gradita a partire proprio da queste immagini da Londra che rimane il giorno più bello della vita di Steve Gerdà. Buonasera intanto. Beh sì, per uno sportivo è la cosa più bella che ti possa succedere. È già magnifico poter partecipare alle Olimpiadi, ma poi vincere una medaglia è ancora meglio. E quando si riesce a vincere il titolo individuale, medaglia d'oro per l'appunto, è veramente una cosa sulla quale ti sei concentrato per anni, giorni, notti per raggiungere questo obiettivo e quando ce la fai è straordinario appunto per uno sportivo. Una cosa che non si riesce a spiegare e che ti resta inciso nella memoria per sempre. Ovviamente parleremo di questa medaglia che casualmente Steve ha portato. Ma va sempre in giro con la medaglia o l'ha portata solo per noi? La mostriamo bene magari perché è vero che non capita tutti i giorni vedere una medaglia olimpica negli studi di sport non stop. Noi ci stiamo abituando bene perché sette giorni fa c'era Dominic Gisin, ne sono arrivate altre, però è sempre un bel vedere. E cosa si prova a tenere fra le mani un oggetto tanto prezioso? Beh, è parecchio tempo che non la prendevo in mano, devo dire. Comunque è una cosa straordinaria anche per me effettivamente. Non sono uno a cui piaccia molto guardare indietro, io preferisco guardare al futuro e fissarmi nuovi obiettivi. è una medaglia che ho a casa, però non è che è la prima cosa che vado a prendere quando torno a casa, è un po' nascosta almeno nel mio appartamento. Quindi è una cosa che io non uso per riposarmi sugli allori. No, quando avrò finito con la mia carriera, allora magari sì. Per il momento preferisco guardare al futuro. Avete già capito che è uno sportivo doc, non si accontenta, ottenuto un grande risultato si pensa subito in grande a qualche cos'altro. Speriamo di non dispiacere a Steve Gerdà perché con qualche immagine lo riporteremo al passato, anche se lui ama guardare più al futuro. Qua c'è tanto di Steve Gerdà, però mancherebbe la cosa più importante. Nino dov'è? Nino de Bossonet, il cavallo non l'ha portato. No, non è stato invitato. Possiamo fare un tentativo? Un'altra volta invitiamo anche Nino? Se vuole, sì, perché no? Ma che cosa vi dite di solito? Perché parla con Nino? No, no, non parla il cavallo. Non capisce neanche quando gli umani gli parlano. Però c'è un feeling tra noi, un feeling che si trasmette via via, che si trascorre del tempo insieme. Si diventa veramente amici, si cerca di diventare come una coppia. Ci si capisce, Nino capisce, sono sicuro, quello che io penso, quello che io faccio, i miei atteggiamenti. Io cerco di capirlo al meglio e capire come si sente, se sta bene, se è stanco, o se magari ha troppa energia in corpo, di che cosa ha voglia un giorno o l'altro. Magari a volte vuole andare un po' più forte, a volte vuole invece riposarsi, andare nel bosco a passeggiare. Ecco, è un rapporto che si costruisce giorno dopo giorno, per questo l'esperienza è molto importante in questo sport ed è per questo motivo che ci vuole molto tempo e molta pazienza per riuscire a creare proprio un legame così forte che permette poi di raggiungere i risultati che abbiamo raggiunto. È bellissimo perché sembra che davvero stia parlando di una persona, di un amico e qui si capisce come si è costruito un binomio tanto importante e vincente. Quindi vuol dire che il frustino con Nino non lo usa o ogni tanto bisogna usarlo? A volte sì, perché come ho già spiegato appunto il cavallo non parla e quindi bisogna utilizzare altri mezzi per capirsi e quando monto il cavallo lui deve capire che cosa mi aspetto da lui. È un lavoro di dressage, di allenamento, addestramento del cavallo per riassumere le cose appunto per fargli capire come io reagisco. I cavalli hanno un temperamento molto forte e può succedere come in una coppia tra uomo e donna ci sono dei litigi ogni tanto, è la stessa cosa con il mio cavallo e quindi l'obiettivo non è far vedere chi è il più forte ma bisogna che entrambi ci si rispetti e a volte io ho bisogno di farmi rispettare di più e ho bisogno di ricorrere al frustino e invece a volte è lui magari che mi fa capire che devo rispettarlo ma fa parte proprio di questo rapporto. Curiosità, ma un oro olimpico si sporca ancora le mani e gli stivali andando a strigliare il cavallo a fare tutti i lavori che dovrebbe fare un perfetto cavaliere o ci sono dei privilegi dopo la medaglia olimpica? Ma io ho comunque una squadra che mi aiuta ho 5 impiegati che mi aiutano, 5 collaboratori che hanno appunto il compito di occuparsi dei miei 18 cavalli e quindi non posso fare tutto non posso occuparmi di tutti quanti la mia vita però non è cambiata il giorno dopo le olimpiadi faccio sempre le stesse cose cerco di lavorare al mio meglio quando c'è bisogno di aiutare anche in scuderia io lo faccio però è vero sono un privilegiato perché ho delle persone che lavorano per me ma c'erano già anche prima per questo poi sono riuscito appunto a raggiungere questi risultati Io sono rimasto un attimo scorso sicuramente anche a casa abbiamo sentito bene 18 cavalli 18 cavalli Sì è così Ha una stalla gigantesca una scuderia gigantesca Beh sì è grande la scuderia ci sono cavalli un po' dappertutto ma questo è importante perché si vede Nino che vince di solito alla televisione ma io non è che sono arrivato a Nino casualmente e quindi c'è tutto un lavoro dietro un lavoro per trovare i cavalli e portarli a raggiungere appunto questi risultati bisogna cominciare con dei cavalli più giovani con meno esperienza e questo poi è il mio lavoro cercare di portarli a questi livelli non è che tutte le volte funziona come è andata con Nino per questo bisogna cercare di ampliare un po' la base per poter avere dei piani B per così dire B, C, D e oltre perché 18 cavalli alla fine però quello giusto si è rivelato Nino e con Nino ha saltato a Londra e a Londra è arrivata questa medaglia che effetto fa a Steve Gardin sapere che lui mentre saltava e vinceva e si metteva l'oro al collo Roger Federer vinceva solo un argento No, io non sono così non faccio dei confronti con gli altri sportivi Federer è irraggiungibile non si può comparare con nessun altro tennista quello che lui è riuscito a fare è una cosa unica nel suo sport quindi non si devono fare dei confronti ogni sport è a sé stante io rispetto tantissimo di quello che altri sportivi fanno e io so quello che io posso fare nel mio sport, nella mia carriera con i miei cavalli ed è questo che è importante è su questo che mi concentro il resto posso soltanto ammirare quello che fanno gli altri ma non fare dei confronti ecco, non è questo che mi dice in che senso devo andare io Steve Gardin prova ammirazione per gli altri sportivi però Steve Gardin è una vera e propria star Steve Gardin è un uomo che fa fatica anche a avere un minimo di privacy perché firmato per strada gli autografi quando si sa che c'è Steve Gardin da qualche parte automaticamente arrivano tantissimi tifosi quindi come vive questa situazione di essere una stella esattamente come Federer come la Spirig come tanti altri nostri medagliati di solito è una cosa che mi fa un po' fatica perché non è proprio la mia personalità essere sempre al centro dell'attenzione sotto i riflettori però mi piace fare appunto arrivare al me dare del mio meglio arrivare ai risultati però ecco magari non sempre riesco a essere il simpaticone che tutti vorrebbero sorridere eccetera cerco di fare del mio meglio ecco per dare un po' indietro agli altri quello che ho ricevuto dai miei turisti quando ci sono i bambini eh scusate i tifosi quando arrivano i bambini a chiedermi gli autografi è una cosa che mi scalda il cuore certo perché mi sento un privilegiato di essere riuscito a raggiungere i successi che ho raggiunto tra le quali appunto la medaglia a Londra sono dei momenti che purtroppo molte persone non potranno vivere quindi mi sento davvero privilegiato di essere stato scelto per raggiungere questi obiettivi e quindi cerco di dare indietro ai miei tifosi appunto ai miei fan quello che che mi hanno dato è bello quello che dice Steve Gerdà scoprire che una personalità così di successo comunque fatica a a rendersi quasi conto di essere così famoso di essere così ammirato come dai bambini del paese di Steve Gerdà questa è la squadra di calcio sì è lì che ho iniziato anche io a giocare a calcio fino a 13 anni ho giocato anche io a calcio nel Bascur nell'associazione calcio Bascur e poi quando sono tornato dalle olimpiadi nel mio paese natale appunto c'erano i bimbi della squadra di calcio che sono venuti a cogliermi e poi anche tutti gli altri abitanti del paesino mi sono venuti incontro è stato bellissimo diciamo questo è l'aspetto più bello di questa medaglia d'oro perché è stata la cosa più semplice forse forse è stata la manifestazione venuta dal cuore da chi è più vicino a Steve Gerdà e per questo eh sì è proprio così non era una serata di gala non c'erano le paillette i giornalisti eccetera era veramente soltanto il mio paese la gente che mi conosce da sempre che io conosco da sempre che mi sono venuti incontro proprio con il cuore in mano per festeggiarmi è stato un momento indimenticabile cioè in pochi minuti in una decina di minuti Steve Gerdà credo che abbia già eh fatto ricredere parecchi perché noi abbiamo già in mente uno Steve Gerdà eh Stella che fa uno sport che è innegabile è uno sport non così accessibile invece ci sta dicendo che le cose che più le hanno fatto piacere sono le cose semplici sono i bambini che sono venuti a festeggiarla il paese che subito il suo paese che si è ricordato di lei il paese dove hai iniziato a giocare a calcio in che ruolo? ho cercato un po' di tutto ma poi nell'attacco all'attacco stavo al meglio e poi però sei ritrovato con la maglietta numero uno da portiere o uno perché è il migliore di tutti no 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 è stato solo un regalo appunto della Honda dello sponsor dello Young Boys che mi ha regalato appunto questa maglietta dopo una partita dello Young Boys io ho tirato il calcio d'inizio è stata un'esperienza bellissima incontrare forte appunto che ha una personalità molto molto marcata e mi ha dato tantissimo piacere poterlo conoscere ed è una foto appunto che fa parte delle cose che mi sono più care ecco dove mi sento davvero privilegiato dopo i giochi olimpici di poter fare queste esperienze cose che altrimenti non sarei mai riuscito a fare ecco senza questa medaglia persona molto curiosa Willy Ford l'abbiamo conosciuto proprio negli studi di Sport Non Stop due realtà sportive molto diverse avete avuto modo magari di scambiarvi qualche consiglio? no era proprio solo prima della partita lui già si concentrava sulla partita ma mi ha colpito molto il fatto che appunto mi ha detto che è stato lui ha voluto proprio lui fare la fotografia insieme a me ha voluto incontrarmi e questo davvero mi ha commosso mi ha toccato perché di solito i calciatori non è che siano particolarmente modesti e quindi il fatto che lui abbia voluto ecco venire a conoscere fare la foto e magari aprirsi verso uno sport meno popolare del calcio è una cosa che mi ha toccato parecchio Steve Gerdà ha iniziato giocando a calcio poi però si è dedicato ad altro io ho trovato una frase di Steve Gerdà virgolettata quindi dovrebbe essere sua non particolarmente gentile nei confronti della nazionale di calcio perché a proposito della propria nazionale della propria squadra ha detto la nostra squadra ha un livello nettamente superiore a quella di calcio però in Svizzera si parla solo della seconda ricordatevi che ci siamo anche noi questa è una delle nazionali c'è anche Fabio Crotta sì certo Fabio ticinese è anche amico mio da sempre abbiamo iniziato negli unioni insieme quindi non è solo una persona in gamba negli sport equestri ma è anche un mio amico proprio nella vita di tutti i giorni una persona che ammiro molto e io tornando a quella frase che le ha citato penso che si debba parlare di chi ha successo di chi vince e ogni tanto preferirei leggere o vedere alla televisione nei programmi magari la squadra nazionale anche di ipica o di nuoto o di qualsiasi altro sport magari meno noto che vincono ecco una medaglia invece di parlare per ore e ore della sconfitta della squadra nazionale di calcio ecco è tutto lì ecco è una cosa mia personale però sono comunque contento di dove sia il mio sport del livello di vita che ho io non invidio i calciatori però ogni tanto bisognerebbe magari dare più risalto anche ad altri sport dove magari si vince piuttosto che una partita persa nel calcio secondo me ci sono tanti calciatori che invidiano Steve Garda chi lo sa non è invidia non è gelosia è che a me piace quando appunto si riconoscono i successi anche di altri sport e non soltanto appunto parlare di storie magari meno interessanti invece in sport più popolari perché sono più semplici il cui accesso è più semplice per tutti ecco ecco come si gestiscono i rapporti o come si costruisce una squadra in uno sport che è essenzialmente individuale intanto qui siamo andati ancora più indietro nel tempo perché sì c'è l'oro di Londra però c'è anche il bronzo a squadra di Pechino beh è una buona domanda non è sempre facile effettivamente innanzitutto perché il nostro sport come le ha detto è uno sport individuale e quindi in pochi giorni all'anno bisogna mettere su una squadra e cercare di far nascere questo spirito di squadra a volte riesce meglio ecco se per esempio sono in squadra con Fabio che conosco altri amici come Daniele o Alan Juffer che sono già della mia generazione e con i quali ho già dei rapporti al di fuori dallo sport allora lì è più semplice ma in uno sport dove ci sono molte personalità forti e diverse dei giovani delle persone meno giovani anche delle persone per niente giovani uomini donne c'è un po' di tutto tutte le culture tutte le età non è sempre facile però se si vuole essere sportivi ad alto livello bisogna anche essere grato di mettere un po' da parte i propri obiettivi personali per essere d'aiuto alla squadra abbiamo parlato delle differenze degli sport tra sport e sport c'è una differenza anche dei tifosi che vediamo sugli spalti in una gara di equitazione e non so in un match di calcio sono così differenti o è solo l'ambiente diverso? No beh dipende anche dai concorsi una cosa che caratterizza il mio sport è che ogni weekend ci sono dei concorsi ma ogni volta è diversa quindi non ci sono molti concorsi che hanno l'anima da stadio che fanno vibrare le tribune che fanno vibrare gli sportivi e che ci danno i tifosi e che ci danno la voglia di scendere in pista sentendosi sostenuti dal pubblico però questa immagine a Ginevra peraltro è un esempio perfetto quando sono entrato in pista era magica l'atmosfera e quello che ti fanno sentire gli spettatori è straordinario invece a Exo a Ciappello a Calgari o anche appunto quando si scende in pista lì si sente proprio che c'è un'anima del pubblico che vuole vibrare con te col cavallo sono momenti privilegiati non ci sono i cori da stadio però possiamo assicurare che quando Steve Gerdà arriva e c'è in pista tremano le tribune e si sente tutto questo tifo e questa passione è vero non ci sono i cori ma non ci sono neanche le bagarie il che non è male altra stoccatina con molto stile naturalmente come si confà a una medaglia d'oro olimpica ma un'altra stoccatina ad inizio chiacchierata diceva non mi piace guardare tanto al passato sì un occhiato con la medaglia la do ci mancherebbe altro però io voglio guardare al futuro i prossimi obiettivi qua siamo al passato a un concorso vinto a Rio tra l'altro prestigioso ricco una bella doccia con lo champagne ma avete sentito bene siamo a Rio e quindi Steve Garda sta già pensando a Rio sì i giochi olimpici si preparano bisogna qualificarsi quindi stiamo già lavorando da parecchio con Rio come obiettivo finale appunto io spero di riuscire a qualificarmi spero di far parte questi sarebbero i quarti giochi olimpici per me sono cose indimenticabili spero veramente di farcela di mettere insieme una buona squadra dobbiamo ancora fare parecchio lavoro ma spero di riuscire a creare una squadra forte appunto per andare a Rio ma sente nell'avvicinamento qualcosa di diverso sicuramente qualcosa di differente perché dopo un oro si è diversi c'è la stessa determinazione c'è la stessa passione la stessa voglia di arrivare a qualcosa di importante è una motivazione in più e in più hai più fiducia in te stesso credi anche nel sistema che hai creato le persone che stanno intorno a te anche a loro da più fiducia è importante naturalmente la fiducia nello sport se hai bisogno di persone intorno a te che ti diano fiducia quindi è importante lavorare in questo stato d'animo e la motivazione non c'è bisogno di aggiungerla quella c'è c'è sempre stata e ci sarà il momento in cui le olimpiadi non mi interesseranno più sarà il momento di smettere c'è qualcuno che da Stifger da il consiglio giusto al momento giusto per esempio papà Filippe beh sì c'è mio papà è una persona che mi sta molto vicina più però come padre abbiamo un rapporto tra padre e figlio ottimo noi ci vogliamo bene stiamo bene insieme abbiamo fatto un sacco di esperienze insieme ma dal punto di vista tecnico e appunto del cavallo eccetera è piuttosto con Thomas Fuchs il mio allenatore che lavoro di più papà che poi ha fatto selezionatore per altre nazionali quindi se l'hai trovato come avversario che effetto ha fatto? avversario magari è un po' una parola grossa siamo abituati a parlare gli altri sport sono cascato proprio su questo comunque lui ha una squadra non è lui che monta i cavalli quindi lui li allena li prepara va in giro per il mondo con questa squadra il mio lavoro invece è un altro quello che faccio appunto con il mio cavallo e cerco di essere il migliore ai concorsi quindi ogni weekend siamo una cinquantina di cavalieri e uno solo vince quando arrivi secondo o terzo non vuol dire che hai perso ci sono diversi risultati che sono altrettanto gratificanti per un cavaliere per esempio con un cavallo giovane un cavallo nuovo basta a volte anche un risultato meno eclatante e ci sono tanti concorsi dove puoi sempre cercare di appunto non sentirti proprio necessariamente l'avversario degli altri cavalieri altrimenti sarebbe pesantissimo Steve Gardin è un cavaliere di successo ma è anche un imprenditore di successo perché ha creato una linea di abbigliamento questa per esempio delle sue magliette questa è scontata perché dobbiamo aspettarci una nuova collezione o perché non le piaceva? quindi tenetevi pronti no è mio fratello che si occupa un po' di questo aspetto e quindi adesso con la Honda appunto abbiamo elaborato questa linea di vestiti come questo che indosso io per esempio questa felpa e io non ho molto tempo effettivamente di occuparmi di questi capi è mio fratello un po' che ha preso in mano questo aspetto perché c'erano molte persone che volevano avere un ricordino mio ed è per questo abbiamo lanciato questa linea bisogna poter dire che decisamente di buon gusto quindi complimenti anche per per la scelta di questa linea prima mi diceva 18 cavalli ma si ricorda i nomi di tutti i 18 o ho una agendina no ma certo che li conosco tutti per nome e anche so tutte le particolarità dei miei cavalli cerco di avere un rapporto specifico con ognuno di loro e questa è la cavalla forse più particolare quella a cui per certi versi si sente più legata o no è Jalice Cassoliere beh è una storia ancora un po' differente una storia ancora diversa quella con Jalisca tutto è successo come in una fiaba con Jalisca è la giumenta che mi ha portato alla luce che mi ha fatto conoscere che mi ha dato il piacere di montare cavallo e mi ha dato tantissima gioia appunto lavorare con lei abbiamo vissuto dei momenti straordinari insieme è una giumenta che per me è stata davvero un punto fermo non solo a livello di carriera ma anche nella mia vita privata allora abbiamo aperto parlando di un amico di Nino de Boissanet che con Steve Gerdà si è messo al collo ma al cavallo non danno la medaglia cosa danno? no no non ci sono le medaglie per i cavalli no poveri no non penso non penso perché non penso che si renderebbe conto di aver ricevuto una medaglia d'oro d'argento e quant'altro è più importante che i cavalli siano ben curati ben seguiti che abbiano una vita all'altezza delle performance del meglio che possono raggiungere il cavallo non sa cosa ha vinto cosa rappresenti una medaglia ma la cosa più importante è ridare loro il massimo di affetto di amore che si sentano benissimo tutti i giorni non solo quando vincono peraltro anche quando ci sono i giorni meno fortunati ed è sulla durata e sul modo in cui si tratta l'animale il tuo cavallo che questo è un premio per un cavallo piuttosto che una medaglia ecco allora come dicevo abbiamo aperto parlando di un amico Nino abbiamo chiuso parlando di un'amica Jalisca con Steve Gerdà e allora credo di fare cosa gradita Steve a tutti i tifosi di Steve Gerdà nel salutarlo e nel tornare a quel giorno di Londra a quella gara indimenticabile che auguriamo Steve Gerdà possa essere ripetuta tra qualche mese a Rio grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi